Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamoci del tempo previsto attorno al 5, 6, 7 di giugno, quando dopo il caldo intenso del 2, 3 di giugno, dei primi di giugno, che porterà temperature molto sopra la media, soprattutto al centro, al sud e in particolar modo al nord-ovest, giungerà sull'Italia una perturbazione di origine nord-atlantica collegata a un netto calo dei geopotenziali e a una forte depressione. Infatti avremo l'entrata della termica più 12, più 13 al nord-est e uno scorrimento di aria più fresca su buona parte dell'Italia. Avremo in orte fortissimi temporali con rovesci molto intensi, soprattutto al nord e al centro, dove al nord non escludiamo altre grandinate. ed eventi vorticosi. Vi ricordo che questa ancora ha solo una tendenza e ne riparleremo nei prossimi giorni.